Restano stabili ma critiche le condizioni di Gianni De Angelis, 70enne presidente del Sulmona Volley, finiti in ospedale a seguito di un'aggressione in via Patini. I sanitari potrebbero avviare le operazioni di risveglio nelle prossime ore, mentre spunta il precedente per la litera e parcheggio. Si tratta di un 60enne che poco prima del pestaggio e danni di Gianni De Angelis aveva avuto una discussione con un 52enne commerciante nella zona per il posto auto. I due avevano cominciato a bisticciare fino a quando il 60enne per evitare che la situazione degenerasse e si è allontanato, mentre andavo via quel signore sferava calci e punni sulla mia auto, raccontato l'uomo, che non assistiva a pestaggio ma denuncia un precedente, indicativo secondo le forze dell'ordine sull'abitualità del fenomeno. Intanto procure e carabinieri vanno avanti con le indagini per ricostruire tutte le fasi dell'aggressione. I militari nelle ultime ore hanno acquisito anche dei filmati dalle telecamere di sorveglianza di alcune attività della zona che immortalano De Angelis mentre passava in via Patini, ma la scena dell'aggressione non viene ripresa. Tuttavia gli inquirenti hanno sentito la dottoressa del 118, la quale il 70enne aveva riferito il nome del suo aggressore. I sospetti sono quindi ricaduti sul 52enne, con precedenti giudiziari alle spalle, che ha fornito un'altra versione dei fatti ai carabinieri nel corso delle operazioni di identificazione. «Ero all'interno della mia attività, quando il signore è caduto, sono uscito fuori per capire cosa era successo», aveva detto il commerciante. Versione tuttavia che non combacia con la testimonianza di uno degli automobilisti, sentito De Carabinieri, che lo aveva visto litigare strada con De Angelis. Si stanno comunque cercando altri testimoni. La Procura della Repubblica di Sulmona, che indaga per lesioni aggravate e defutili motivi, ha disposto una perizia per fare chiarezza sulla tipologia e l'entità delle lesioni. Al momento non ci sono indagati. Intanto il quadro clinico di De Angelis, ricoverato nella rianimazione dell'ospedale San Salvadori dell'Aquila, è critico ma stabile. Dopo l'aggressione, una caduta in ospedale potrebbe aver aggravato il suo quadro clinico. Secondo quanto è emerso, De Angelis era stato trovato a terra nella stanza della neurochirurgia da personale sanitario la circostanza riferita alle forze dell'ordine.